Madonna, finalmente, dopo tutti sti panzoni, ci stava proprio proprio di parlare di Goku. Oh, era ora di Dragon Ball! Ok, in pratica sì. Goku e Dragon Ball sono rispettivamente San Wukong e il viaggio in occidente un pochetto accazzonati, un po' tamarri, un po'... Però, insomma, sempre quello è. Quindi San Wukong non è proprio un dio, no? Cioè, non all'inizio, quantomeno. Nasce come personaggio di questo libro, a quanto pare famosissimo in Cina, essendo uno, tra l'altro, dei quattro romanzi classici cinesi che non chiedete niente in merito perché è una cosa troppo strana, e tradotto, tra l'altro, in maniera incompleta da noi, da, non mi ricordo assolutamente chi, Arthur qualcosa, parla del viaggio magnifico e doloroso, soprattutto di Xuanzang, uno della dinastia Tang. È l'inventore del Tang, no. È la ricerca di testi sacri chiamati Sutra. Sì, forse li avete risentiti, non se so, cioè, non è la prima volta che li sento Sutra. Vabbè, se tutto questo vi ricorda le sfere del drago, è perché è la stessa roba. Ad aiutare il monaco buddista, tre avventurieri. Oolong, Yanko, Tenzing, Kri... No, aspetta, no, come? No, allora, San Wukong, Zhu Wuneng e Xia Wujing. Non ci concentriamo troppo sugli altri due. No, mi che ho detto, che sono praticamente, veramente, Oolong e Tenzing, proprio, cioè, diciamo, meno anime, e facciamo uno zoom invece su San Wukong. Dunque, San Wukong era il re scimmia, però era tipo umano. Che altro era che era una scimmia, però umana? Ah, giusto, Goku, detto Son Goku. Che caso! Comunque, chissà perché è nato da una roccia. Certo, sai che una scimmia è diversa quando la vedi nascere da una roccia. Non contento di essere un re scimmia molto figo, il titolo era letteralmente affascinante, re scimmia, ok? Fa cazzotti con un paio di dei, e questi lo premiano, facendolo diventare guardiano dei cavalli. Giustamente. Degli ottimi insegnamenti. Per tenerlo d'occhio, a quanto pare. Comunque Wukong prende e si incazza quando si accorge che il guardiano dei cavalli non faceva molto altro, a parte spalare cacca dai cieli ed accogliere le anime delle bistecche di cavallo consumate dai più animaleschi. Quindi fa un gran casino e sconfigge un sacco di guardiani celesti mandati dall'imperatore di Giada, che per ricompensarlo della cosa lo fa diventare guardiano del giardino di Peschi. No, vabbè, nel senso, praticamente gli insegnamenti di queste cose sono appunto che più gente meni e più guadagni posti importanti. Ok. Comunque non si è capito se effettivamente era una ricompensa o una punizione tipo Pettenello Bano, però comunque evidentemente l'imperatore di Giada non aveva considerato la piccola variabile, o forse si era buggato il sistema, non se sa, ma fatto sta che sto giardino fioriva ogni 3.000 anni e Sam Wukong si mangia su tutto, perché ovviamente i fiori davano immortalità. Indovina chi è appena diventato immortale? Ecco. Wukong si incazza a Gain quando un gruppetto di fate arriva a raccogliere i frutti e lo prendono per il culo dicendogli che non è invitato al banchetto. Wukong, quei coglioni girati a modalità turbina, sale suppel cielo e rompe il culo a 100.000 truppe celesti, capitanate dai 4 re celesti Erlangsheng e Neza. Toh, Neza. Insomma, l'imperatore di Giada, che dopo svariati hai cacato il cazzo, diretti a Wukong, non ne può più, chiede a Buddha di scoppia a Wukong perché davvero sto figlio era più fastidioso dentro al rasso dei Veshika. Buddha di tutta risposta lo chiude sotto una montagna, per 500 anni a quanto pare, finché Xuanzang non arriva e lo libera, accettandolo come suo discepolo. Ci sono varie versioni della cosa, ovvero che praticamente Wukong in realtà era stato maledetto, barra costretto da Buddha ad aiutare il monaco, altre in cui effettivamente Xuanzang lo prende come discepolo e basta. Ma parliamo invece delle sue armi. Al di là del fatto che l'arma con cui combatte è un bastone che si può allungare quanto vuole... Oh, ma che decevusso questi? Che è letteralmente una colonna portante del palazzo di Aokwang, il re dragone, Wukong ha pure un'armatura d'oro addosso, giusto? Cioè ha tipo un'armatura semi d'oro e poi i pantaloni rossi. Ecco, sto pilastro Wukong lo prende perché ha sfidato Aokwang dicendogli, oh scommettiamo che magno il centro della pizza senza taglialla e Aokwang che mica era stronzo dice, no, però se alzi il pilastro te lo porti via. E mentre rideva facendo ah, guarda sto coglione, San Wukong alza il pilastro e inizia a portarselo via. Aokwang, incazzato e perculato come al solito, come sempre, lo accusa di essere un ladro e Wukong a quel punto fa ah, eh no ciccio, eh non so questi fatti, eh, dice che non solo l'aveva offeso ma siccome l'aveva offeso adesso lo aveva pure in armatura. ed è da qua che possiamo infatti dire che per la prima volta qualcuno ha avuto un rimborso per danni morali. Il re dragone era una persona a posto comunque alla fine, pur di far andare via una scimmia dal palazzo suo gli tira un'armatura d'oro dietro. Mamma mia, un guardiero le cui armi se le guadagnate proprio, San Wukong, eh? Madonna! Comunque niente, sto qua diventa un semidio in pratica e guarda caso che strano può usare una nuvola in grado di farlo arrivare velocemente in giro. Chi era che faceva sta cosa? Ah no, no, non ricordo, niente. Per tenerlo buono buono comunque, Xuanzang usa una fascia intorno alla testa di Wukong e per stringerla ha una specie di mantra. Che strano, pure questo mi suona familiare però un po' diverso. Quindi niente, Wukong, rescimmia, fighissimo, fortissimo, è capace anche di affrontare Freezer e vincere. No cazzo, mi sbaglio sempre. Però può creare copy di se stesso soffiando sui suoi peli. Quello sì. Su Smite, Sam Wukong è un guerriero con un passato turbolento. Nei campionati mondiali del 2013 aveva sconvolto l'opinione pubblica con svariati motivi. Specie perché ha un potenziale di danno invidiabile che però col tempo si è piuttosto normalizzato rispetto agli altri dei. Spesso e volentieri ci si lamenta del poco amore ricevuto per essere un solo laner che a conti fatti sembra essere un po' il suo lavoro, in effetti, se non fosse per quel mana alterficante. Comunque, vediamo nella pratica Sam Wukong cosa offre. Madonna, cioè, so... Ma so troppo professionale... Mamma mia, cioè, non so... Una passiva eccezionalmente suicida quando Sam Wukong si ritrova al di sotto del 35% di vita, infatti la sua percentuale di critici e le sue protezioni aumentano del 10%, con un percento ulteriore per livello guadagnato. A livello massimo, Sam Wukong guadagna il 30% di protezioni e il 30% di possibilità di critici. Non male, ma manco la fine del mondo. La prima abilità di Wukong ha a che fare con la sua gigantesca colonna. Una botta a terra da 240 danni più il 50% di potenza fisica. Una botta! Tuttavia è una cosa curiosa notare come l'abilità faccia un quarto di danno in più a minion e campi della giungla. Ritornando quindi al discorso originale di essere un solo laner. La seconda abilità è invece un'abilità di rallentamento e danno. Sam Wukong fa un giretto in tondo con la colonna per 290 danni più il 50% di potenza fisica, accoppiati a un rallentamento del 30% per 2 secondi. Abilità ottima per inseguire e stare addosso al nemico. La terza abilità è forse la più macchinosa da usare, in generale credo, proprio su smite. Trasformandosi in un'aquila, una tigre o un bue, ogni animale ha un effetto diverso. La tigre quando colpisce il nemico fa 380 danni più l'80% di potenza fisica, stunnando fino a 1.4 secondi, se gli piacerebbe 4 secondi. Il bue carica invece i nemici per 210 più il 60% di potenza fisica e lancia via chiunque colpisca. E infine l'aquila semplicemente è immune a rutto e rallentamenti ed è molto veloce a muoversi. L'uso principale di ogni trasformazione è indubbiamente a vostra discrezione. Tuttavia le regole generali sono che l'aquila è per scappare dal pericolo, la tigre per fare uno stun e una bella botta di danno ed il toro per dividere i nemici in modo da aiutare gli alleati. In pratica alcuni trucchetti molto semplici vi permettono di fare molto danno. Durante la trasformazione dell'aquila, ad esempio, potrete sfruttare la velocità maggiorata che ha solo la forma dell'aquila per inseguire i nemici per poi colpirli con la seconda abilità o prenderli a cazzotti con qualcosa che li rallenti, dandovi poi la possibilità di scappare via o con l'ultimate o con la seconda abilità. Oppure potete fare la stessa cosa con il bue, lanciandoli in aria, cancellando l'abilità non appena avete colpito il nemico e poi dargli una o addirittura due botte mentre sono ancora in aria, impossibilitati a reagire. In pratica è un po' come quando si usa la terza abilità di Mercurio lanciando i nemici contro un muro. Vi beccate praticamente colpi gratis senza che il nemico possa assolutamente difendersi in alcun modo. Unica pecca, girarsi durante tutte e tre le trasformazioni è molto, molto ridotto. Infine, l'ultimate è un buon ibrido fra salvarvi il culo nelle situazioni più disperate e dare quel colpo di grazia che spesso manca dal vostro danno. Sam Wukong carica la colonna per saltare sulla sua nuvola, lasciando una sua copia a combattere che si comporta esattamente come un minion. Vi insegue, vi colpisce con attacchi base, vi insegue fino proprio a casa oppure dopo che avete chiuso la porta continua a colpire la porta e poi vi colpisce a voi con una sua vita molto piccola e un tempo massimo di spawn. La cosa buffa, e qui ne parlo dopo, è che la copia è considerata a tutti gli effetti un... non ho capito se è un minion o un dio, ma comunque è a tutti gli effetti un minion. Inoltre, dopo 5 secondi, Wukong scende giù per 340 danni più il 120% di potenza fisica dopo essersi curato del 5% per secondo. Potete anche scendere prima e appunto dare quella botta finale per finire qualcuno. Per le build siamo su un terreno un po' scivoloso. Sam Wukong è, complice a un tetto di esperienza molto alto, un guerriero con diversi potenziali, estremamente diversificati. Non è raro vedere un Sam Wukong con una build di danno puro, giron solare per l'arena o addirittura per i clash. Sfruttando la grande mobilità, i cc, la passiva e l'ulti, potete infatti essere dei glass cannon, nemmeno troppo glass. Una build che ho visto piuttosto ineffettiva su un Wukong, invece, è quella di difesa pura. Un Wukong ha dalla sua 2 cc. Tuttavia uno solo di questi è uno stun vero e proprio, e non è per niente affidabile, in quanto colpendo qualsiasi cosa mentre siete una tigre, stannerete quella cosa, anche che sia un minion. Se non sviluppate e mantenete un po' di capacità di danno, i nemici potranno semplicemente ignorarvi senza che voi possiate nella sostanza fare molto. Do quindi una build generica, usabile un po' ovunque, ma ricordate di cambiare sempre in base alla situazione o, se un oggetto vi sembra meglio di quello della build che vi propongo, provatelo. Una cosa che ogni giorno mi risulta sempre più ovvia è che su Smite, anche se c'è poca varietà di oggetti rispetto ad altri MOBA, c'è una grande varietà di modi di giocare multi-day, risultando infatti in oggetti molto diversi. Costruiti. Di mio, Wukong lo costruisco con Warrior Tabby, Stone of Gaia, Gaia, Breastplate of Valor, Runforge Hammer, Hydra Slammant e Deathbringer. Sì, sì, poni, fermate, fermate i fischi, grazie. E li vedo già, eh, quei sorrisi distrutti dalla build. Sì, è una build disastrata. Cioè, sì, è una build che dovreste fare solo se sapete quello che state facendo. Come sempre, come quasi tutti i warrior che gioco, tendo a tankizzarli piuttosto che farne venire fuori il potenziale di danno, perché preferisco sempre essere il supporto del team che sta sempre in mezzo alle palle a prendersi le botte, piuttosto che quello che ammorbidisce i nemici. La build tende ad entrare soltanto in late game come build dannosa ed anche a quel punto comunque non siete i killer del party, ma potete cavarvela contro i più fragili, specie i maghi. Una build un po' più veloce e fattibile prevede di scambiare la Breastplate of Valor con uno Jotun's Wrath, il Runforged con una bella Spirit Rob, e l'Hydra's Lament con una fantastica Eye of Nemean Lion, o per i più temerari un Frostbound Hammer. Tengo sempre su il Deathbringer, tranne quando supero i tre oggetti difensivi, preferendo invece un Titan's Bane, che in generale è un po' al sentimento. Ricordate che avete il cooldown estremamente abbassato ed è necessario che lo abbiate, perché altrimenti davvero non uscite vivi, e di conseguenza il Deathbringer vi aumenta i critici e vi aumenta la potenza dei critici, garantendovi un'ottima potenza fisica sfruttabile sia nelle botte, diciamo, base, sia nelle abilità. Ma il Titan's Bane vi dà potenza simile, con la possibilità di fare a schiaffi con il warrior avversario e fargli male. L'Hydra's Lament è lì, e per me non si schiata mai, perché le vostre abilità vi permettono quasi sempre di dare almeno una bottarella al nemico, dopo aver usato l'abilità. Esempio chiave per dimostrarlo è usare l'aquila per raggiungere il nemico, cancellarla appena siete a raggio di colpo e dare la botta, attivando l'Hydra's Lament. Per scappare poi avete diversi modi, rallentate il nemico e scappate, se avete bisogno, oppure ultimate e via. Come dicevo prima, inoltre, la copia che create con l'ultimate, che ricordate, con il cooldown massimizzato, arriva a 45 secondi, se non sbaglio, risulta estremamente utile quando andate ad attaccare una torre. Infatti le torri, in generale le strutture, nel momento in cui c'è anche un solo minion nelle vicinanze, riceve il 30% di danno in più. Motivo per cui spesso gli dei che evokano minion, come Nuwao Bakasura, sono molto favoriti nel danno alle strutture. In sostanza, Samu Kong è un dio indubbiamente complesso da usare efficientemente, ma che probabilmente nasconde più soddisfazioni di molti altri. Oltretutto, combatte con un bastone allungabile e viagge su una nuvola, senza contare che il guerriero prescelto della stirpe è dei sa... Cazzo! Ma sbaglio! Sempre! Sempre! Carot! Carot! Carot!